L'ultimo compleanno di Tisaro Ferro senza il quattro davanti Tanti auguri a lui e soprattutto che ci ha dato spunto anche per andare a sentire questo classico oramai della musica italiana Benvenuti dunque Barbara Ulizzi con voi per le prossime due ore assieme qui su Radio Capodista Poi c'è Boyan Classics oggi alla parte tecnica e oggi abbiamo tante cose in servo per voi A partire proprio da colei che sarà la nostra ospite alle ore 17 mi sto riferendo ad Antonella Ruggero Che tra l'altro proprio domani sarà dal vivo in Slovenia all'Hotel Park di Novasu